Un italiano su due non si fida delle associazioni non profit e sceglie di non donare. Per questo oggi serve una garanzia. Da più di dieci anni l'Istituto Italiano della Donazione garantisce attraverso i suoi controlli l'uso corretto dei fondi raccolti. Una associazione che aderisce all'Istituto Italiano della Donazione è sicura e affidabile. Scegli di donare e a chi su iodonosicuro.it Benvenuti, io sono Ornella Ponzoni e sono qui oggi per parlarvi dell'Istituto Italiano della Donazione, un'associazione che da oltre dieci anni si occupa di dono e donazione in tutta Italia. È un piacere essere qui oggi perché è con me Elena D'Andrea, responsabile raccolta fondi della Fondazione Arche. Grazie. Come abbiamo sentito anche dal contributo che è appena andato in onda, un italiano si due non si fida e non dona. Questo è un dato di fatto ed è proprio per questo che è nato l'Istituto. Noi vogliamo dare una garanzia al donatore. Sarà sicuramente capitato anche a voi di voler fare una donazione, ma di essere rimasti frenati, bloccati dal dubbio. La mia donazione andrà davvero a buon fine? Per questo è nato proprio l'Istituto. Noi svolgiamo dei controlli annuali sulle associazioni, sulle fondazioni, sugli enti non profit che decidono di farsi verificare da noi. È un percorso impegnativo in cui un'associazione che vuole farsi verificare deve credere, investire tempo ed energie. Ma alla fine, se tutti i controlli vanno a buon fine, l'associazione riceve il marchio Donare con fiducia e viene inserita nel database Io Dono Sicuro. Io Dono Sicuro è il primo database italiano composto da solo associazioni o fondazioni verificate, che noi controlliamo appunto ogni anno. E' qui con me oggi Elena D'Andrea, responsabile raccoltafondi di Fondazione Arche, che ha da molti anni il nostro marchio. Una scelta, come abbiamo detto, impegnativa, una scelta seria, una scelta di trasparenza. Elena, di cosa si occupa la fondazione e perché avete scelto di aderire a Io Dono Sicuro? Fondazione Arche nasce 31 anni fa su iniziativa di padre Giuseppe Bettoni per rispondere all'emergenza dell'HIV pediatrico. E dal 2013 è socia dell'Istituto Italiano di Donazione. Ci occupiamo di offrire sostegno e accompagnamento alle famiglie e bambini che si trovano in situazioni di vulnerabilità. Sono principalmente donne con figli che arrivano da situazioni di violenza, che sia violenza domestica o nei percorsi di migrazione o disagio personale. Lo facciamo attraverso casi di accoglienza, appartamenti di semi-autonomia e progetti sul territorio. Devo dire che essere soci dell'Istituto di Donazione per noi non è una scelta di opportunità. È perché noi, come tante altre associazioni o fondazioni, crediamo nei valori della trasparenza e del buon uso delle donazioni che riceviamo. Perché tutto quello che facciamo, le case di accoglienza, gli appartamenti, i progetti, sono realizzati grazie alle donazioni di privati, aziende, fondazioni. Aderire all'Istituto di Donazione significa per noi offrire una garanzia ai nostri donatori e rispettare il rapporto di fiducia che creiamo con loro. Noi ogni anno veniamo verificati dall'Istituto che controlla quello che facciamo, controlla la nostra trasparenza e ci offre anche dei consigli molto pratici ma molto utili su come migliorare le nostre attività di raccolta fondi. Quindi è una scelta importante. Di fatti noi lo comunichiamo, usiamo il marchio in tutte le nostre comunicazioni con il pubblico. Ad esempio adesso siamo quasi sotto Natale. Perché non dedicare un momento di attenzione anche ai più fragili, alle associazioni come noi che si occupano di dare sostegno a chi ne ha più bisogno e farlo tramite la scelta di ciò che si trova, delle associazioni che si trovano su Io Dono Sicuro è sicuramente una garanzia che quello che viene donato andrà a buon fine. Quindi grazie all'Istituto della Donazione i donatori possono scegliere con tranquillità. Grazie mille Elena. Assolutamente questo appello è rivolto a tutti, donare è alla portata di tutti, donare con fiducia è un nostro diritto. Vi diamo quindi appuntamento sul nostro sito www.iodonosicuro.it www.iodonosicuro.it www.iodonosicuro.it